Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e l'opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Questa sera mi sposto un po' dal classico focus del mio canale, ovvero la Serie B, e vi parlo da amante del calcio. Sono convincente le qualificazioni degli europei e appena finita Italia contro Inghilterra. Si giocava Napoli, terra che sta andando a conquistare veritatamente lo scudetto in Serie A in questo campionato. Ha vinto l'Inghilterra, ha vinto per 2-1 al termine della classica partita completamente a due facce. Qualche riflessione su questa gara. Primo tempo orribile dell'Italia, nel quale l'Inghilterra trova due reti. Sono d'accordo con il mister Mancini, i due gol nascono da calci piazzati, ma non si può dimenticare quanto la prestazione nel complesso dell'Italia sia stata molto deludente e l'Inghilterra abbia saputo ingabbiare perfettamente le manovre azzurre, controllando Phillips con Verratti e controllando soprattutto Giorginio, considerato il potenziale regista dell'Italia, ma mi ha visto invece, come già sa chi mi segue su questo canale, uno dei giocatori più sopravvalutati del pianeta, quantomeno in questa fase della sua carriera. L'Inghilterra ha controllato il gioco, ha trovato le due reti. Nella prima, una tacita al calcio d'angolo, svarione difensivo, Kane mette la palla al centro, Rice, bravissimo, a mio avviso migliore in campo, a mettere il pallone in rete, il gol del 2-0 è un fallo di mano classico di questi tempi, di Lorenzo che per anticipare Kane al braccio largo tocca il pallone nettamente con la mano, l'arbitro Giovannovic non se ne accorge dal campo, ricamato alla moviola, impiega un'eternità comunque a decidere di assegnare il calcio di rigore. Kane, bravissimo, spiazza Donnarumma, mette la palla in rete per il 2-0, ma l'Inghilterra nel primo tempo potrebbe fare anche il 3-0, ma l'inguardabile grilice di questa sera manca, porta sostanzialmente sguarnita la rete della totale sicurezza dell'Inghilterra. Totalmente in controtendenza alla ripresa, nella quale l'Italia invece al contrario gioca molto bene. Parte già da subito, migliore spazio nel pressing, recupera più palloni, Giorginio sempre un po' evanescente ma sale molto soprattutto Verratti, il gol del 2-1, confusione arbitrale totale ma ne riparleremo dopo, il gol del 2-1 nasce dalla folle costruzione da dietro inglese che tenta di fare un passaggio Maguire in profondità, Barella molto bravo a recuperare il pallone, c'è un fallo poi di Maguire, fa l'arbitro Giovanovic in questo caso una delle poche cose buone nella sua partita e concede un vantaggio, l'azione si sviluppa, Pellegrini bravissimo, grande assess per Reteghi che alla prima palla sostanzialmente realmente giocabile della sua partita trova la rete dell'1-2, l'attaccante pescato in Argentina e che devo dire ha avuto oggi una serata completamente strana perché è piuttosto difficile, non conosce i compagni, fa fatica sicuramente a sapere i movimenti o quello che deve fare però la chance che ha avuto l'ha sfruttata. L'Inghilterra che soffre molto da quel momento soprattutto, concede campo all'Italia i cambi con l'ingresso soprattutto di Politano danno grande ritmo all'Italia anche sulle fasce poi c'è anche la perla del cartellino rosso a Shaw in un'azione confusissima nella quale l'Inghilterra è un giocatore a terra ma attacca, è possibile farlo in mano da una parte si va dall'altra parte, c'è un secondo fallo di Shaw che era stato ammonito per ritardata rimessa laterale l'arbitro fischia semplicemente fallo e dopo oltre un minuto decide con tutta calma di dare un secondo cartellino giallo e di espellere il giocatore inglese la superiorità numerica però viene coperta molto bene sia con i cambi di Southgate sia con il modulo che diventa sostanzialmente una sorta di 4-4-1 e l'Italia non ha grandissime chance nitide, in realtà avrebbe meritato forse il pareggio per la quantità di gioco sviluppato nella ripresa ma senza avere creato poi di fatto grandi occasioni perché McGuire e Stones giocano molto bene e Pickford di fatto non deve fare neanche grandi interventi la chance forse più grossa è la giocata di Gnonto sulla fascia con il cross al centro e Shaw bravo a chiudere in anticipo su Politano per il resto non ci sono grandi occasioni da rete a mio avviso per l'Italia nel complesso quindi parte Bale questa avventura di qualificazione europea la prossima partita peraltro contro Malta che ha perso solo 2-1 con la Macedonia quindi una gara da non perdere già domenica perché sarà già decisiva un'Italia che ha lasciato qualche ombra soprattutto da un punto di vista di questo bruttissimo primo tempo anche difensivamente sia a Cerbi sia a Toloi soprattutto non mi hanno convinto fino in fondo e ha mancato un po' di energia, un po' di spinta nel primo tempo hanno fatto molto bene i cambi soprattutto davvero Politano e Gnonto anche che ho trovato molto più vivo, molto più carico la presenza di Rettigli davanti è una scommessa magari in questo momento però è un giocatore ovviamente appena arrivato che deve ancora inserirsi nei meccanismi non ha fatto a mio avviso una brutta partita nel complesso dimostrato di avere sicuramente il fiuto del gol però deve sicuramente mettere più minutaggio ed è comunque una situazione difficile per l'Italia non avere un reale bomber lì davanti che possa già essere un pochino più inserito nella manovra però complessivamente io credo che ci stia in realtà la sconfitta perché al di là del secondo tempo ben giocato il primo tempo è stato troppo negativo ai punti in un verdetto di box credo che la vittoria dell'Inghilterra ci potrebbe stare per quanto di buono la squadra di Southgate si è saputo fare nel primo tempo Inghilterra che ha messo a posto il perdere quelle partite storicamente incredibili contro squadre più deboli però adesso è lì più vicina alle forti solitamente non riesce a portare a casa poi i tornei o le partite che contano qui è partita bene in queste qualificazioni adesso giocherà contro l'Ucraina nella seconda giornata un'Inghilterra che nel primo tempo mi ha veramente ben convinto però mi ha colpito invece il calo della ripresa che è stato molto netto dicevamo dell'arbitro totalmente disastroso c'è un dato di questa gara incredibile 19 falli 13 contro l'Italia 6 contro l'Inghilterra l'Inghilterra commettendo 6 falli è riuscita nell'impresa di avere 6 cartellini gialli l'arbitro Jovanovic si è distinto per aver ammonito giocatori per perdita di tempo non si capisce poi banca forse un secondo giallo ha ammonito nel primo tempo Rice per una perdita di tempo poi ha fischiato un fallo di Rice che però ha colpito Maguire in realtà più che il giocatore italiano invece ha dato un cartellino giallo misterioso non si capisce a chi a Grealish sembrava dato a Walker Walker ha preso un cartellino giallo per la rimessa laterale confusione totale veramente un arbitraggio pessimo tra l'altro con un atteggiamento che sembrava quasi ci stesse facendo un favore a essere lì sul campo ad arbitrare la partita mi è piaciuto veramente poco andiamo con le pagelle poi attendo un po' i vostri commenti perché questa prima uscita luci e ombre mi interessa molto anche confrontarmi con voi per l'Italia sei a Donnarumma cinque e mezzo a Di Lorenzo indeciso e non al suo top cinque e mezzo a Toloi che mi ha convinto piuttosto poco Romagnoli non mi piace ma quasi quasi mi piacerebbe più vedere Romagnoli che non Toloi sei a Cerbi sette a Spinazzola il migliore degli azzurri sia già nel primo tempo il migliore e compresa la ripresa nettamente il giocatore che mi è più piaciuto sei e mezzo a Barella ha cresciuto nella ripresa cinque a Giorginio capace di passare la palla all'indietro ma per il resto poca inventiva sei e mezzo a Verratti molto cresciuto nella ripresa cinque a Berardi che ha fatto troppo poco sei a Retegui malissimo in primo tempo bravo alla ripresa ha sfruttato il gol positivo sei e mezzo a Pellegrini dei subentrati come detto sette a Politano positivo l'ingresso di Gnonto sei a Cristante sei a Mancini per quanto riguarda l'Inghilterra sei a Pickford sei a Mancini forse generoso per il brutto primo tempo però ha saputo riscattare e tirare fuori la squadra quindi per me è sufficiente sei a Pickford sei e mezzo a Walker sette a Stones sei e mezzo a Maguire sei e mezzo a Shaw sette a Phillips e sette a Rice questi due centrocampisti mi fanno impazzire sei a Sacà sei e mezzo a Bellingham primo tempo fantastico sparito nella ripresa cinque a Grealish che avrebbe avuto sulla coscienza la mancata vittoria inglese col gol che si è sbagliato sei e mezzo a Cade dei subentrati positivi Trippier e James sei e mezzo anche a Southgate che era il mio idolo a Russia 2018 perché si metteva il Giderino con la cravatta e ora in panchina con un look molto meno positivo arbitro Jovanovic voto 3 grazie ragazzi iscrivetevi al canale fatemi sapere come vi è sembrata questa partita con l'Italia ci risentiamo per la trasferta contro Malta da non perdere a questo punto grazie ciao a tutti iscrivetevi e un bacio da Lox grazie a tutti